Alle inestimabili e attente traduzioni dei libri vedici e alle ricerche personali del dottor Hogg dobbiamo la conferma delle affermazioni dei filosofi ermetici. Può essere facilmente dimostrato che il periodo di Zarathustra Spitama, Zoroastro, è di un'antichità incalcolabile. I Brahmana, a cui Hogg assegna 4.000 anni di età, descrivono le lotte religiose fra gli antichi hindù che vivevano nel periodo prevedico e gli iraniani. Le battaglie fra i Deva e gli Asura, i primi dei quali rappresentavano gli hindù, i secondi gli iraniani, sono descritte per esteso nei libri sacri. Poiché il profeta iraniano fu il primo ad insorgere contro quella che chiamava l'idolatria dei Brahmani e ad indicarli come Deva, che significa diavoli, a quale lontana epoca dunque deve risalire questa crisi religiosa. Tale contesa, risponde il dottor Hogg, deve essere apparsa agli autori di Brahmana non meno antica di quanto i fatti di re Artù appaiano agli scrittori inglesi del XIX secolo. Non vi è stato un filosofo di qualche notorietà che non si sia attenuto a questa dottrina della metempsicosi, quale fu insegnata da ebraimani, dai buddhisti e poi dai pitagorici in senso esoterico, esprimendola più o meno comprensibilmente. Origene e Clemente Alessandrino, Sinesio e Calcidio, tutti credettero in essa e gli ignostici, che sono stati incontestabilmente riconosciuti dagli storici come gli uomini più raffinati, eruditi ed illuminati, credevano tutti nella metempsicosi. Socrate professava dottrina identica a quella di Pitagora ed entrambi, come pena della loro divina filosofia, furono messi a morte. La prebaglia è sempre stata la stessa in ogni tempo, il materialismo è stato e sempre sarà cieco alle verità dello spirito. Quei filosofi ritenevano, insieme agli hindù, che Dio avesse infuso nella materia una parte del suo divino spirito, il quale anima e muove ogni particella. Essi insegnavano che gli uomini hanno due anime, di nature distinte e del tutto diverse. L'una periscibile, ovvero l'anima astrale o il più intimo corpo fluidico. L'altra incorruttibile ed immortale, ovvero l'augo eides o parte dello spirito divino. L'anima mortale o astrale perisce ad ogni cambiamento graduale sulla soglia di ogni nuova sfera, purificandosi sempre più con ogni trasmigrazione. L'uomo astrale, per quanto possa essere intangibile ed invisibile ai nostri sensi mortali e terreni, tuttavia è costituito di materia, anche se sublimata. Aristotele, sebbene per ragioni politiche personali abbia mantenuto un prudente silenzio su certe materie esoteriche, espresse molto chiaramente la sua opinione in proposito. Egli credeva che le anime umane fossero emanazioni di Dio riassorbite infine dalla divinità. Zenone, fondatore della scuola stoica, insegnava che vi sono nella natura due qualità eterne. L'una attiva o maschia, l'altra passiva o femmina. La prima è pura, etere sottile o spirito divino. L'altra è completamente inerte in se stessa finché non viene unita al principio attivo. Lo spirito divino, agendo sulla materia, produce fuoco, acqua, terra ed aria ed è l'unico principio efficiente da cui tutta la natura viene mossa. Gli stoici, come i saggi hindù, credevano in un riassorbimento finale. San Giustino credeva nell'emanazione di queste anime dalla divinità e Taziano Assiro, suo discepolo, dichiara che l'uomo era immortale come Dio stesso.